Siamo con Giulietto Chiesa del Comitato Non Debito. Giulietto, tu sei un esperto di politica internazionale, la Grecia brucia, quale conseguenze per l'Europa? Intanto io sono convinto che la Grecia brucia, ma è solo il primo incendio, perché quello che sta accadendo in Grecia è soltanto il prologo di quello che sta per avvenire nel resto dell'Europa. Anzi, direi che mi auguro che avvengano nel resto dell'Europa, perché stanno direttamente attaccando il patto sociale su cui 400 milioni di persone hanno vissuto gli ultimi 70 anni. Stanno letteralmente demolendo l'intera struttura economica e sociale alla quale tutti noi siamo, non solo abituati, ma alla quale teniamo e alla quale abbiamo pure diritto, perché le nostre Costituzioni ce lo garantiscono. Quindi, purtroppo la Grecia è toccata per prima, ma io credo che la Grecia sia dando un segnale di grande resistenza. Il popolo greco non accetta le decisioni dei suoi rappresentanti. Situazione molto simile a quella italiana, dove i rappresentanti del popolo non rappresentano più il popolo. Quindi penso che la fotografia attuale della Grecia sia la fotografia nostra di qualche mese più avanti. E quindi credo che dobbiamo dare innanzitutto la nostra più larga solidarietà ai lavoratori greci e cominciare a stabilire dei rapporti. Il nostro governo, se fosse un governo che ci rappresenta, dovrebbe fare una cosa di questo tipo. Dovrebbe mandare una delegazione ad Atene, una delegazione a Madrid, una delegazione a Lisbona. Insomma, dovrebbe riunire tutti i paesi che sono colpiti o minacciati da questa crisi e dire esplicitamente che noi dobbiamo rilegoziare interamente la questione del debito e dobbiamo denunciare questo debito. Dobbiamo esplicitamente trovare uno schieramento, perché noi siamo Europa. La mia opinione è nettissima. Noi siamo Europa. Senza di noi l'Europa non c'è. E noi abbiamo diritto tutti insieme, non solo i greci, greci, italiani, ripeto, spagnoli, portoghesi, irlandesi e a questo punto anche francesi, belgi, olandesi. Abbiamo diritto di poter dire che questa situazione è insostenibile. Quindi un'Europa che mette una larga parte della popolazione europea in condizioni insostenibili non può essere accettabile. Mentre in Italia si discute la modifica della Costituzione e si preparano a provare un articolo della Costituzione che impone il pareggio di bilancio voluto dal nuovo trattato europeo con una maggioranza che impedirà anche il referendum. Il Comitato Dono Debito invece chiede di poter fare un referendum su questa modifica costituzionale. Esattamente, cioè la strada è quella. Io credo che sia strada difficile, ma credo che sia strada più limpida. Tutto ciò che noi abbiamo delegato all'Europa in tutti questi decenni è stato delegato non dal popolo italiano ma dal Parlamento italiano. Questo è un punto. Un Parlamento che non rappresenta, non può delegare la nostra sovranità. E quindi questo referendum è una inversione in tendenza. Noi dobbiamo chiedere che tutto il processo costituente europeo debba essere interamente rifatto. Attraverso cosa? Attraverso la sistematica esecuzione dei referendum popolari in tutti i paesi europei. In Italia invece il Parlamento sta approvando con maggioranze larghissime la modifica della Costituzione che introduce un articolo che obbliga al pareggio di bilancio. Un articolo che è previsto dal nuovo trattato dell'Unione Europea al trattato fiscale che è quello che impone queste politiche antisociali e antipopolari. Il Comitato non debito cosa chiede? Chiede un referendum su questo articolo? Esattamente. Chiede che, invertendo la tendenza che fino ad ora ha caratterizzato tutte le leggi europee, si consulti la gente su questo punto specifico. È di fatto, come si capisce, una nuova delega di sovranità. Se noi rinunciamo a un pezzo della nostra Costituzione introduciamo una norma che viola la nostra Costituzione attuale senza consultare il Paese. Noi chiediamo un referendum. Ma io inquadro questa richiesta in una richiesta più generale. Fino ad ora tutte le deleghe di sovranità che noi abbiamo lasciato passare sono state prese dal Parlamento italiano, non dal popolo italiano. Allora, la logica dice che siccome questo Parlamento italiano non rappresenta più il popolo italiano, allora questo Parlamento non può delegare funzioni senza consultare il popolo. In una situazione come questa, questa norma praticamente colpisce tutti i diritti fondamentali e tutti i principi della nostra Costituzione. Com'è possibile che il Parlamento decida una cosa del genere senza consultare? Il popolo, cioè il luogo della sovranità. Quindi io credo che questa sia un'importante richiesta strategica del Comitato NoDevico. È un modo di affrontare la crisi. Senza questo modo noi siamo nelle mani di un gruppo di persone che come perfino Tremonti ormai dice sono un gruppo di illuminati pericolosi. Non vorrei affidare le sorti del popolo italiano né di quello greco a degli illuminati pericolosi. Tremonti ormai dice Tremonti ormai dice Grazie.